Avrebbero compiuto almeno 84 furti d'auto tra le province di Caserta, Napoli, Avellino e Benevento. 18 persone infatti sono state raggiunte dalle misure cautelari emerse dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capovetere per l'associazione delinquere finalizzata al furto al riciclaggio alla ricettazione di auto. Le indagini che erano iniziati nel febbraio del 2018 sono state realizzate dai carabinieri di Caserta dopo l'arresto in fragranza di un latro d'auto nel capoluogo della Reggia. Ed è così emersa l'esistenza di un gruppo ben organizzato e dai ruoli assegnati capace di realizzare decine di furti d'auto serventosi di centraline modificate, di smontare poi le auto e rimenterne i pezzi. Inoltre durante le indagini sono state anche arrestate sette persone sorprese in fragranza in due depositi a smontare le vetture rubate.